Ciao a tutti ragazzi di TernoAndroid e benvenuti al nostro unboxing del Meizu MX4, l'ultimo top di gamma cinese a prezzi relativamente bassi. Al pari di Xiaomi, anche Meizu ha prodotto ottimi top di gamma a prezzi relativamente contenuti. Quindi, dopo aver visto quanto di necessario per il nostro Xiaomi Mi4, di cui unboxing lo trovate nel link che compare in sovraimpressione, oggi, grazie alla collaborazione con Meizu.it, il rivenditore ufficiale di Meizu in Italia, abbiamo avuto l'opportunità di testare l'ultimo Meizu MX4. Quindi, il top di gamma a circa 350€ è prodotto dall'azienda orientale Meizu. In questo video vediamo l'unboxing, nei prossimi giorni invece proveremo il prodotto e stileremo la nostra recensione completa. Vediamo la confezione originale. Innanzitutto, confezione completamente di color bianca con indicazione di Meizu su un lato e MX4, che è il nome del prodotto, e sugli altri lati non troviamo nulla, se non posteriormente l'indicazione con il codice IBAN e IBAN, con il codice necessario per identificare quale smartphone è in nostro possesso. Proviamo quindi ad aprire la scatola, che si apre esattamente come tutte le altre, tranne che rimane attaccata ad un lato. Immediatamente troviamo carica batteria con presa USB da parete e, come vedete, presa italiana e europea, quindi non americana. Poi, aprendo questa a mo' di libro, troviamo immediatamente il nostro prodotto. Il nostro prodotto che è veramente carino, come è stato deciso di presentarlo, ed in particolare vedete che è stato posizionato in maniera perfetta, quindi difficilmente sfilerà mentre aprite la scatola. E all'interno di questa piccola confezione troviamo importanti condizioni per la sicurezza e naturalmente nient'altro. Infatti qui in lingue inglese, cinese e quant'altro trovate tutte le indicazioni del caso per eventualmente impedirvi di utilizzare in malo modo il dispositivo. Proseguendo nell'unboxing troviamo una nient'altro, oltre che il caricabatterie microUSB to USB. Come vedete la confezione è molto carina, molto carina nel senso che è stata veramente realizzata su misura, quasi di incastro, e all'interno della confezione non è stato posizionato essenzialmente nient'altro. Quindi, in questi giorni abbiamo detto che noi proveremo il Mezoo MX4, ma molto rapidamente possiamo vederlo. Vediamo innanzitutto che non troviamo nessun tasto fisico, viene posizionato solamente un tasto di colore bluastro con un piccolo rotondino, quasi come ad esempio il tasto Home dell'iPad, dell'iPhone e quant'altro. Qui trovate già il launcher proprietario di Mezoo, che vedremo nel dettaglio successivamente, e colore posteriore molto resistente, scritta Mezoo, fotocamera posteriore, e tasto di accensione e spegnimento posto superiormente con presa jack, e tasto del volume posizionato lateralmente. Dobbiamo dire che a primo impatto il dispositivo davvero si presenta e sembra veramente accattivante e molto portabile. Ora non ci resta che provarlo e offrirvi la nostra recensione e tutte le nostre impressioni nei prossimi giorni. Detto questo, se avete piacere di ricevere ulteriori informazioni sui nostri video, ricordate di mettere un mi piace al nostro canale, ed in particolare di condividere il video con gli altri, in modo che anche i vostri amici possano conoscere tutto quanto è necessario del Mezoo MX4. Vi rimando alla nostra prossima recensione. Alla prossima!